Cosa fanno i genitori manipolatori? Iniziamo a dire che spesso dietro ad un genitore manipolatore o manipolante troviamo delle coppie stanche, nevrotiche, che hanno fatto un figlio per salvare il matrimonio, oppure per stabilire una tregua all'infelicità coniugale. E questa è spesso una delle radici delle manipolazioni affettive dei genitori verso i figli. La manipolazione crea un conflitto inconscio nei figli. Il conflitto fra il bisogno di essere amati e la cruda realtà che porta alla frammentazione della personalità, con gravi effetti sulla personalità, compresa la mancanza di stima in se stessi, che porterà ad un atteggiamento da mendicante nelle relazioni sentimentali e sociali. I genitori manipolatori sono genitori affetti da problemi psicologici, da dipendenza affettiva, da patologie psichiatriche qualche volta, per cui vivono nella relazione con i figli le loro ferite infantili, creando un clima emotivamente tossico. Questi genitori sono riconoscibili da alcune caratteristiche, tendono a colpevolizzare i figli, facendo credere loro che devono essere perfetti. Che non si deve mai cambiare opinione, quindi bisogna sapere tutto, bisogna rispondere ad ogni richiesta, ma in realtà questi genitori non danno un buon esempio, anzi, dando un cattivo esempio, cambiando loro stessi opinione a seconda delle persone e delle situazioni. Un'altra caratteristica tipica dei genitori manipolanti è che addossano la responsabilità dei fallimenti ai figli. Ma nello stesso tempo non sempre sono chiare le loro richieste, le richieste che hanno fatto i figli, sono piuttosto richieste vaghe e anche il linguaggio è spesso contraddittorio, è un linguaggio incoerente e spesso succede che di fronte ad una richiesta del figlio il genitore la ignora nonostante dica di occuparsene. Le critiche sono all'ordine del giorno. Il genitore manipolante fa arrivare i suoi messaggi attraverso intermediari e tipicamente semina sospetti. Con i figli può arrivare a fare la parte della vittima, questo per essere compatito. Inoltre è un grande dissimulatore, sa dissimulare, sa cambiare argomento con disinvoltura nel corso di una conversazione, punta sull'ignoranza degli altri e li convince della sua superiorità, è in grado di mentire molto facilmente, è egocentrico. Si rivela efficiente nel perseguire i propri scopi ma sempre a discapito degli altri e non sopporta le critiche. Non tiene conto dei diritti e dei bisogni degli altri e spesso succede che si riduce sempre all'ultimo momento per chiedere qualcosa. Ora, i discorsi dei manipolatori sembrano logici ma le loro azioni, il loro stile di vita non sono per niente logici. E allora dopo un elenco piuttosto lungo di caratteristiche che abbiamo fatto capiamo bene che i figli di uno o di due genitori manipolatori si ritrovano a fare i conti con le conseguenze che questa situazione ben precisa ha su di loro. Le conseguenze sono reazioni psicosomatiche, ansia, disturbi del sonno, soprattutto una bassa autostima e quindi una perdita di fiducia in se stessi. Qui il problema qual è? Il problema è che è molto difficile per un figlio accettare il fatto di non essere amato dal proprio genitore. È molto difficile perché un genitore dovrebbe essere il primo rifugio per un bambino, dovrebbe essere colui che dona amore in maniera incondizionata. Non ti aspetti da un genitore che ti possa tradire le spalle. Naturalmente il discorso è più complesso, più articolato. Io ho fatto una sintesi in cinque minuti. Vi invito, se volete approfondire, potete visitare il mio canale YouTube Roberto Ruga psicoterapeuta dove troverete centinaia di video dedicati proprio alla manipolazione genitoriale, al narcisismo e via dicendo. Vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata, consulenze telefoniche o via mail. Per richiedere una consulenza psicologica dovete scrivere un messaggio su WhatsApp al numero 338 16 92 473, scrivendo come funziona la consulenza, specificando il vostro nome e cognome e i vostri orari preferiti. Inoltre vi informo che ho scritto dei libri che sono ordinabili soltanto attraverso Amazon. Buona giornata.